Il CAI, Giovanni, mi presento Trae a colonna mobile, sto girando in area di sosta Veicolo 1 Veicolo 1, veicolo 2 Questa è la di chiama voi, siamo arrivati Il CAI, Giovanni, mi presento Il CAI, Giovanni, mi presento che hanno bisogno di pomoci, che non hanno domani. Nel nostro centro sono anche donne, bambini, ma anche anziani, adulti, persone che non hanno aiuto, che non hanno sovrapposito. Grazie a le donazioni di persone come voi sono sufficienti. Piacere, vi ringraziamo tanto, vi ringraziamo tanto. Il nostro contatto volato. Ciao! Grazie a tutti!